Electrolux ancora nella cucina di Elle Skitken Parte la quarta stagione di Elle Skitken su Schiuno HD, 14 concorrenti si sfideranno per diventare esecutive chef davanti al temutissimo giudice Carlo Cracco. Ad aiutare i cuochi durante le dure prove ci saranno gli elettrodomestici Electrolux, sponsor ufficiale del programma, presenti sia nella cucina del loft che in quella della casa. Electrolux, unica realtà leader al mondo sia nel mercato professionale che in quello domestico, trasforma le migliori tecnologie utilizzate dai grandi chef uno su due tra gli stellati Michelin in Europa utilizza apparecchiature del gruppo in prodotti esclusivi per l'uso casalingo. I concorrenti di Elle Skitken avranno a disposizione nel loft i più innovativi elettrodomestici in fatto di cottura e refrigerazione per l'uso casalingo, tra questi il forno combinato a vapor e combi stem pro, il forno a microonde combinato con grill, i piani cottura a induzione e il frigorifero side by side. Mentre nella casa gli aspiranti chef troveranno gli apparecchi best in class di Electrolux professional, scelti per la loro affidabilità e competenza ideali per affrontare al meglio lo stress come nelle cucine di un vero ristorante. Grazie a Electrolux, leader sia nel mercato professionale che in quello domestico, gli spettatori potranno ricreare anche a casa propria con semplicità le ricette dei più famosi show cooking televisivi liberando la propria creatività con risultati straordinari. Grazie a tutti.